Amici di Telea1, ci troviamo quest'oggi in questa bellissima giornata primaverile in Viale Cristoforo Colombo, nei pressi della cosiddetta Madonnina, una zona storica del borgo marinario e turistico di Schiavonea, frazione della città di Corigliano Rossano. Siamo ormai a distanza di poche ore, ci separano per l'appunto dall'inizio della Settimana Santa, dalla Pasqua di Resurrezione. Ma che festività è? Che resurrezione è se oltre alle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o coronavirus ci troviamo ancora a parlare, ancora una volta a denunciare fenomeni di inciviltà e segnali di deplorevole atteggiamenti e comportamenti da parte di taluni cittadini che per l'appunto definire incivili è poca cosa. Qui, lo dicevamo, nel centro del nostro bellissimo lungomare, anche nei pressi di un nuovo stabilimento, balneare, si colgono ancora i segni visibilmente percepibili di quello che è il degrado, l'incuria, la sopraffazione del cittadino che non rispetta l'ambiente e che addirittura lo deturpa. Rifiuti di ogni genere, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, rifiuti di ogni genere sul verde pubblico, ma anche, e questo è un ulteriore segno del degrado e dell'ingiviltà, resti di alcuni petardi, quindi che sono stati appiccati evidentemente nelle ultime ore, quando ben sappiamo che non soltanto questo non si può fare nella norma, ma soprattutto non si può fare in tempi di emergenza epidemiologica, in tempi di mini lockdown, in tempi nei quali il senso della responsabilità comune dovrebbe essere un imperativo categorico morale, prima ancora che essere dettato da ordinanze comunali. Sempre qui, sempre nei pressi di uno stabilimento balneare, ma soprattutto dove esistono abitazioni private ed altro genere, si percepiscono e si colgono quelli che sono i segnali dell'ingiviltà dei cittadini. Qui, in un luogo che invece dovrebbe essere deputato alla cura, alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del verde pubblico, invece rifiuti di ogni genere buttati, plastica, lattine, reti, rifiuti per l'appunto ingombranti, alcuni anche dei quali sicuramente pericolosi e nocivi per la salute, oltre che per l'ambiente pubblico, in barba a qualsiasi regola. Questa scena parla più di qualsiasi altro nostro commento. Davvero qui qualcuno ha bivaccato oppure è venuto appositamente, deliberatamente a gettare dei rifiuti. Guardate che discarica a cielo aperto, che ci separa qui, a pochi metri da questo splendido male, da una zona dove ancora permangono le imbarcazioni che sono il simbolo di quella che è la storica marineria di Schiavonea, una delle più importanti dell'intera Calabria. E allora su queste tristi immagini ci congediamo? Naturalmente sappiamo che già tanto si sta facendo a livello anche di amministrazione comunale, di forze dell'ordine, di polizia locale, con i sistemi di videosorveglianza sul territorio, ma non c'è sistema di videosorveglianza che tenga e sanzioni combinate che tengano, se prima non subentra in ciascun cittadino il senso di responsabilità. Rispettare l'ambiente vuol dire rispettare casa nostra, vuol dire avere tutela dei nostri figli, vuol dire rispettare la nostra città.